Oggi stavo convincendo che la conta era tutta per Alberto Angelo facendo andare al loop il video dell'unico voto che ha preso. Forse non era a caso di prendere il talento che non mi fa camminare all'indietro. Eh ma sa de no. Se tene dietro di me. Ah stai fisso tu di gioco. Sì sì. Ah ce l'ha anche te? Sì. Prima della nebbia è proprio quello che ci vuole per morire. Invicinavo. Eh so cadere con la viola. Vado. Dove cazzo? Va bene va bene metterlo sul traiettore. Attenzione al fear. Eh vabbè però. Cioè. E' un buon passo. Come cazzo fate quei melee aiutare il Fiat? Spiegatemi. Aiutate uno che la prima volta che lo fa da melee. Ah guarda che cottato che ti viene addorso apposta. Ah ok allora. Mettiti vicino a me che c'ho il coso che non vado un Fiat. Il Jordan. Ah dopo mettetemi in un gruppo con i melee scaldato già. Sì. Questo è me lo so. Bravo bravo. Giusto. Fear. Attenzione. Pronti a correre. Sì. 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 Pronti a correre. Benedetta poi metti una bolla. Questo per gradire. Quando la vuoi? E tipo adesso. Guarda. Adesso. 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 ecco si li ha mi stai massacrando non mi sono messi d'accordo e adesso è nata giusta perché facevo tutti sti danni ok non è un'altra cosa che si era l'est per la vita 16 di 10 di corso pensione alle catene catene del tema prendete il non c'è la mia ragazza sarebbe posso essere attasca ah no forse se è stata soccata non è stata soccata la buzza niente fa niente dai ragazzi intanto è 13% concentrati tenete zilio zilio usati tutto che adesso tanti c'è solo da correre perfetto fate solo danno tempo al curare non serve più e chi c'ha lago scappa e riesci a zil tanti tanto facca ricordi mollati no 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 non come mosca ok pzzzzzz che vuoi? la foto bieta aipa aipa uff Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.